Cioè, se si pareggia abbiamo mirato essenzialmente. Bravo, Aldo. Dagliela. Bravo, Andrea. Buon sonno. Ti buttano. Bravo. Eh, bravo. Bravo. Vai. Bravo, Aldo. Bravissimo. Bravo. Belli demoni. No. Bugati di più. Dormi, Dio Monodormio, mega audenzio, stasera. Bello è visto. Vai, 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 vai. Vieni la Ken. Bravo. Oh. E vai. Un pozzio davvero. Un pozzio davvero. Io nulla. Ho notte nuovo nel mio pesbaglio. Oh. Madonna pulita. Come l'è andata. Andrea, mi fa vedere qualcosa. Dio. Vai. No. Non ho capito, però la porta deve c'entrare. Alzo una volta. Porca puttana, una volta. Con Monza tutti i coi incredibili da 30 metri a rientrare di sinistro. Io ancora non ho beccato una volta alla porta. Bravo. Tira. No. No. Ma attira, ma attira, ma attira, ma attira, ma cosa te ne frega, ma vai a tirare, ma cosa cazzo te ne frega, ma vai a tirare, nemmeno tu fossi scarso, ma vai a tirare. E' uguale, ma attira, dai. No, sul passaggio... Nessuno... Ho capito, ma nessuno... No, ti ho detto, sul passaggio era ancora più difficile. Nessuno gli avrebbe mai detto, no, la poteva passare a Moisena, ma dove? Vai, Dodino. Andrea, che piacere. Calle money. Eeeh, ma capito, ma... Eeeh, ma capido, ma... É peggio, sì. Ohi, ohi, c'è un dolore. No, ma perché? Ma chè? Ma cosa... Sta facendo Goodmusson? Oi, ho, c'è in terra anche supposedly. C'è in terra Dotò a tutti i تو. Dotò è come se dicesse di essere stato colpito, tra virgolette, anche in una posizione all'interno dell'area di Vigore. Ma no, ma il cuore, scusa, ma... Mi chiedi anche più. Ma la letta è alluvige qua. Esatto. Stavo verificando che Teo Hernandez non ha colpito il pallone ma ha colpito solamente il piede di Dodò No, è dentro! Dentro sembra di... Quest'altro è cazzo, rossa così Oddio, pulizia da nero! Ah, va a vedere! Oddio, è dentro! È dentro! Moise Henda ha il dischetto, è giusto perché l'altra volta l'ha tirato fuori E lo sbaglia? No, stai cittadino! No! Ma sì, ma perché è imbecile? No! Fanno battere a Guttmuss! No, no! Fanno battere Guttmuss o il rigore! Ma cosa avevi vuoi se Henda? Ma io voglio! Vaffanculo! Ma perché bisogna farli battere a Kelle? Ma chi l'ha detto, va a per batture? Ma voi dovete intrami netta, è Guttmuss per le battere i rigori! Ma che cazzo? Ti ho detto io la prima cosa che ho detto, Kelle è difesa, non ci siamo! Proprio nella posizione dove il portiere va giù, nel centro-destra Se tu sbagliate i rigori... Eh, sì, sì! Pella a posto! Ma guarda, ma guarda il famoso culo! Bravo! Eh, eh, eh! Eh! Madonna ragazzi di quanto l'è fuori dall'aria anche questa! Ma questo è l'ammonito, però, eh! Sì! Infatti è ammonito! E se lo vado a restare a mandare a caffo il culo! Ma no, 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 no! Io la ritireremo in prima! Eh, ma cos'è? Ma dai, ma te fai veramente aare, bro, eh! Cioè... Ma porca puttana, oh! Ma fai veramente aare! Ma che poteva fare? Ma che cazzo ne so! Ma come cazzo si fa a tirare così male? Ma nemmeno io! Oh, oh! No! Non ci posso arredere! TIIII! Non ci posso arredere! Non ci posso arredere! Mi ha preso la faccia a Ken! Ma che sfida! Ma che sfida! Oi, oi! No! No! Ma che sfida! Bravo! Vai! Oh, 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 oh chiedi scusa a tutti, chiedi scusa a tutti i gol dell'ex, i gol dell'ex, bravo, chiedi scusa a tutti, chiedi scusa a tutti, i gol dell'ex, un gol clamoroso tra l'altro, clamoroso, lì ha proprio il diavono da palla da biliare. C'è, ma che cazzo ha fatto un gol clamoroso, ma che difesa del Milan? Ora, mai più levato dalla titolarità lui, eh? La mia ha tirato palladino. Ma ho capito, ma perché? E' un imbecille Ken, ha tirato di merda Ken, oioi? Bastava tirarsi bene. Vedi, vedi, non è pure, perché i giocatori sono uomo e bambini. Io ho capito, però cazzo, un mimo. Via ooo! Mamma mia, vai, 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 vai. Si impegna alla dire, è stato tritato. Vai Alberto, va bene. Quello è stato tritato, cioè, vai, 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 di là, c'è col pani da solo. Sì, sì. Oh! Madonna, pulì! Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio No, non c'è Miva su questa situazione. No, secondo me no. E lui uno sbaglia. Perché uno batte in gabbia? Perché uno batte Emerson Royale? Grande David! Grande David! Fortissimo! Grande David, uno per uno! Il giochino dei rigori sbagliati! Oh via! Il giochino dei rigori sbagliati! Il giochino dei rigori sbagliati! No, è partito proprio anche prima. È partito proprio anche prima perché lo sapeva che questo testa di cazzo francese non crociava. Bravo! Mamma mia fatica! Che super fiega! Gudmussen è poco però verrà. Cioè, bravo! Speriamo! Bravo! Non lo so! Non lo so! Vabbè, ce l'avevo creduto. Oh che coglioni! Basta! Chi l'ha presa? Ben! Basta, ostiazzo di rigori! Basta! Madonna! È palle! Proverai se! No, questo è il rigore! No, il rigore niente! Eh, ma non lo sbaglio adesso! No! Perché si fa due rigori nella stessa partita? Nemmeno! Le gatti fa un miracolo! Ma è impossibile! Già una parola! La tira a fuori! Sì, sì, già la parola! Oddio! Sei fortissimo! Sei fortissimo! Sei un mostro! Sei un mostro! Un mostro! Un mostro! Un mostro! Un mostro! Più bella di prima! Un mostro! Un mostro! Un mostro! Un mostro! Sei un mostro! Lucid! Sei un mostro! Terracciano! Un mostro! L'ha fatto già le prime tre giornate! Deo sta fuori io! L'ha fatto fuori! Sì, praticamente sì perché... Io penso che non avessi mai visto i due rigori parati nella stessa partita! Soprattutto dalla Fiorentina! Dalla Fiorentina poi e mai! Penso che non avessi mai... Ma domani si va a comprare la maglia di De Gea! Sì, sì! No, la volevo comprare l'altra volta! Domani sarà anche vendita della maglia di De Gea! Domani io... Ohioi! Eh, si stava continuando a subire adesso, però... Ma vaffanculo! Mamma mia! Guarda come è fuori Ale! Lui ha questa abilità di leggere! Prima dove arriverà... Eh, ce l'ha di ammarcarlo, sicuro! Cazzo, che palle, però... Sì, però... Ha fatto un gran lavoro! Eh, ha fatto un gran gole! No! Malissimo! Malissimo! Mamma mia! Grazie a te, ha fatto due gusti! Cazzo, no! Piglialo! No, piglialo! Piglialo! No! Uuuu! Chi è? Raniero, Ranieri! Rammano, miei cittura mamma rossa! Di tirava! Rammano, miei cittura mamma rossa di Ranieri! Bravo! Che culo, va bene! Sì! Vai! Sardali tutti! Vai, vai, vai! Dio Mono, vai! Rientro il tuo! Dalla ora! Rientro il tuo! Ma ho morto, questo! Vai, Andrea! Oh, che fa? Eh, eh, eh! 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 Ma come no? Ma come no? Ho capito, ma se è rigore, è rigore! È rigore! Ma come no? Ma come no? La stizione di Dodo, questo è il momento, è il colpo di tacco. Ma, netto! Ma, nettissimo! Dove ci deve fare fare? Ma come? Però, te ho... No, ma come c'è cover? Ma stai scherzando? Perché è questo? Ma come c'è cover? Ma, ma cazzo, ma netto! Ma come hai raggiunto il contatto? Se è un dolarbitro, non era rigore. Ho capito, ma... Il marino, ne la tremmo, non è! Oh, oh! Sì! No! Sì! Sì! Alberto! Sì! Alberto! Alberto! Andiamo! Vaffanculo, vai! Sì, d'acqua! Sì, d'acqua! Non tornare più! Non tornare più! Ma che segrullo! La piccola via! BUM! Fucilare su terra! Pi testa! Se ti riesci! Pi testa! Ma sei in pano che si tira! Anche con il pane! Ci dovrà una vita per montare questo video C'è successo a 750 anni Vai 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 Vai! No! Maledetti in chiaro! Bravo! Ma perché si sbaglia la palla così? No! Bravo Gambine! Bravo! E' tornato! E' tornato! Vai rossa a palladino! E' rossa a palladino! Bravo Raffaele! Ti guadagniamo punti anche con questo rosso! Che vuol dire che tu ti sei aumentato talmente tanto! C'aveva ragione! Ma per la porta a centovese! Questa era la furigiovo! Era furigiovo ragazzi! Ma che uomo! Questo era furigiovo! Ma che uomo! Ma che uomo! Ma che uomo! Questa è furigiovo! E' clamorosa! Bravo! 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 Madonna che fucilato ha tirato! Ma che uomo! Ma che uomo! E' che il vado di unανtale! E' il mio amore! Grazie a tutti.